Siamo davanti alla Facoltà di Sociologia di Trento, i ragazzi hanno messo in atto un'iniziativa di protesta che si sviluppa soprattutto in un'occupazione. Adesso cerchiamo di capire quali sono le motivazioni e perché chiaramente hanno sfruttato questa occasione per lanciare il loro messaggio. La nostra protesta è una protesta contro la presenza del Festival dell'Economia in università, per questo abbiamo deciso oggi di occupare la facoltà del Dipartimento di Sociologia che ospita nell'aula principale le conferenze del Festival per questi giorni. La nostra protesta è contro questo Festival dell'Economia che rappresenta e celebra un modello di società che non condividiamo, che contestiamo. Quante persone hanno messo in atto questa protesta? Quanti sono i ragazzi dentro in assemblea? L'assemblea che si è costituita contro questo Festival è di un centinaio di studenti e studentesse. La posizione è una posizione fortemente critica nei confronti di questo sistema, questo è chiaro. Ma perché sfruttare un'iniziativa che in realtà è organizzata fondamentalmente anche da questo sistema per lanciare un messaggio che invece è critico nei confronti dello stesso sistema? No, per noi è stata fondamentale, è proprio la motivazione principale, il fatto di farlo contro il Festival dell'Economia in questi giorni. Un Festival che ha occupato lo spazio del nostro dipartimento dove studiamo e noi sinceramente nessuno ci ha chiesto il permesso, nessuno ha chiesto agli studenti cosa ne pensavano, come succede sempre. Noi abbiamo deciso di riappropriarci del nostro spazio.